Ma Grega si gioca con i biscotti in giungla, mi sembra una cacata mi sembra No ma no, cosa si servono? Prendi boots e cd Eh ma quello ce l'ho a prescindere E prendi quello del cdr La zone La zone va bene Pensi avrei sbagliato le rune, vabbè Primo start, ah ecco Cioè non sono completamente wrong, però sono i verano mirabili Comunque il piano è semplice Cd in bot A 6 spammer Sì ma ci le apri Anche perché Jarvan è early game hunker Però no, io sto solo l'india suo Dopo la guerra di Malfoy, most likely Jarvan ha anche la skin pay to win Ok Ok Lei di quella skin Ha un'animazione È buggato Ma quello è Jarvan? Sì Jarvan Ah Jarvan Eh fanatic Jarvan è pay to win Perché? Eh lei non si è tipo un'animazione Differenza delle altre Tipo quando fa la Jarvan in teoria Fa tipo Alza la mano Fa lo standard in su E poi cade Invece quella fa solo lo standard in giù Che è invisibile Cioè la vedi quando è già accaduto Quindi counter a trash Eh vabbè Vabbè lo vedi comunque partire di Q Solo che non vedi tanto bene Comunque i finali che vincono il mondiale Se lo ricordano solo loro Nessun altro Eh sì Ci giocavano solo loro Infatti si vede che sono skin di altri tempi Comunque Sì sì Beh comunque non le hanno fatte troppo fa Cioè un bel po' però E io non posso scrivere dv ragazzi Perché ho lasciato limitato Dv Ok Ai 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 Sono ristretto Per un altro giorno Ho scritto Ai dai IRL Però non volevo flammare Cioè capito Allora stavo flammando Il mio fight Se lo guardo Ancora muoio IRL Però era riferito a me Unlike Quello quindi non devanno Manco Ma WTF Il mio cembre era un tizio Perché era Ma che figata quella skin Quella è bellissima Mi piace un sacco Il fight Ma che testa ha poi È rotondissima Ma credi che quella sia la testa Non è 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 la testa Ah il cazzo Perché era il metodo spaziale del tipo Vabbè focusiamoci dai Questa cover Guarda Tu vuoi essere Aspetta Ok A bordo perché c'è Brom Magari invadono sti pazzi Non c'è una banca in ordine Loro Metteteli in ordine Cazzo R Brom shield Jarvan combo R Questi sono i shield importanti I guess Allora Vediamo Cosa fa il mio cembre Jarvan può venire al 2 mid Yes Ma tanto io gioco a pulsi Sono a pulsi Vogliamo provare Gunk bot Allora Se vogliamo provare Gunk bot Altri posso startare Raptor Ma se no Ce li amo Ce li amo Ce li amo Allora starto Perchè mi te perdiamo Con Brom Difficile a killare Allora me ne è starto qua Yes Abbiamo Ranging 2 Gli dice You will lose Proprio tossico Ma lo fai Oh Sì Let's go Deve farti bloccare la passiva Eh Verso No penso Jarvan L'abbiamo visto A red Per cui Potrebbe aver fatto solo red Magari quello è fake Perché anche era al 2 mid Quindi L'ho detto in considerazione Però In teoria start up Ah ma anche perché Non vuole fare patting In 2 mal fight Dai C'è Secondo me È fake leash Ma Non ci giurerei Abbiamo fatto un trollbot E poi io vorrei guardare Riesci a guardare il loro raptor Oppure il loro blu Ancora meglio Eh Razuki Il loro raptor Sono Il blu è troppo distante Credo Io sto pushando Tanto non penso Mi gankerà Eh potrebbe Altri ma Guardi tu Eh sì Guardi io Allora Allora è top Occhè a te Oh no Beh lei non ha flash No Jarvan però sì Eccolo eccolo Bebek Hai visto? Ok Devo flashare Sì Sto davvero camperando Mal fight? Non l'avevo visto Ci credete? Voleva schiazzare Anche che ti riganker No Potevo morire Io l'ho web un po' Fagappata Sì Vabbè Give up A pocket Anche se va un po' Behind It's fine Jarvan insisterà top Ganker mid Perché non ha Cioè Sto facendo Ha fatto 3 campi Mi sta facendo Il golem Ah no Io non ho Ho già rubato Il campo Jarvan è Ti riganka Perché fa lo scalto Al top Devi soffrire Mi piacciono Ah sì Devi soffrire un po' Typical top lane Slife Guardami E invece Allora è in 3 secondi Proviamo anche noi Qui c'è me Qui c'è me Qui c'è me Qui c'è me Ti tengo la wave Doppio flash Tipo la ghost star Non l'ho vista Però Minion block Potrei essere morto Non è vero L'ammazzato L'attacchio Non flippare Non flippare Perché La side win condition Tra l'altro Jarvan Pensate Un nuovo top Più campi top Che altrove Cioè in realtà Un campo È un campo Quindi Però top Ha anche lo scattolo Quindi penso sia lì Precallo Ma ne vado Attendo mid Anzi no Ha due campi top Perché ha fatto lo scattolo Non ha fatto altro Penso sia bot Io penso sia top Ma Potrebbe essere bot Per cui sì Magari Magari bot Io ricollo Tu attendo mid Che sei Yasuo Senza summoner E sei juicy Poi io faccio due campi E allora potrebbero Vabbè In realtà il drago Abbiamo previsione Ma poi se lo fanno No big deal Io mi cleero topside Due campi E poi magari ti ganko mid Che con tre campi Faccio il 6 Per cui se mi aspetti Vengo mid Quando tu hai il 6 Lo ammazziamo E io bec Mi sa bot Forse è tanno il drago A noi ci basta Che Yasuo non sia Super bene Poi come raggiungiamo Il team fight Stompiamo Ok vado a guardare Qui c'è pure l'altra Aspetta Ok Va bene va bene Hai indietrissimo di guardare Allora vado a guardare La jungle Allora push Volante in 10 Lui ha qui Mi rubi rato Mi sa non ha ghost Lui deve ancora clearare i campi I bot Non li ha ancora fatti Quei due Mi rubi i suoi golem anche Sì sì Io ho una wave gigante Allora dai viamo Allora push Ti può gancare da bot Mid No questa non è un back Dobbiamo aspettare 30 secondi Se vieni top Quella sua Devi amo 20 secondi Sono lì Ok 15 Ma se si chiama quella wave Vabbè Pagia bene Io posso ultare No ho ancora doppio V Guarda Vabbè Non arrivo Bravi bravi Ti lascia anche la wave Guarda che Guarda che Guarda che bravo Fosse è stato fragola con cancel Era rubata tutta Già Eh sì Già Ravane bot Ok Deve essere bot O forse è qua Amiraptor Maybe Eh Probabilo Che è bot Guarda tp In caso prendi la rant Io regallo Io prezzo mint Non mettete bot Potrebbe essere qua Sì Faccio un bel jack show Startup di Sanfer Ah no Però forse Forse non ti conviene Ragione 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 Bravi 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 Missa Cassio Sì ma Non può Non può Ma stiamo Zero Mano Prova Minire top Nasconditi Aspetta Eh tranquillo Mi può Vedando Mi clearo la wave Se riesci a Inghaggiare Inghaggia Ora viene Levence Provo Attaccarmi Ok Buona Aspetta che finisce Quella cosa Adesso Sono una mana Stai Stai givappando la jungle Fungo per Gangarmi Siamo a 20 Get up Io aspetto Qua Top 6 Stai spawnando Sì Direi mandare Invadere Io provo In realtà Avrei un boom Back Io posso Romare Adesso Buon lavoro Dove Qui Allora Se rom Mi vado Invadere Anche se Non l'ho Beccato Sei Sicuro Sì Sì Brom viene Inditraggiamo Di tanto Trash It's fine Guarda Hai R Via sua Sì Guarda No aspetta Non forzare Non forzare Non forzare Troppo I bet Sì Sì Vuoi tornare BOT Puoi tornare BOT Qua Non facciamo Niente Ok Se hai aspettato Le mie R Sì La wave bot E mette un po' male Possiamo rifarlo Top Ah top C'ho la wave Grossa Di nuovo Jarvan sta full clear Ando bot Si fa anche lo scatto Se vuoi venire top Deviamo Però la wave è crashata Adesso Ah non posso venire Va in due Eh rischi Alla Prova 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 Sì 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 Non vedo Twitch Not field bro Not shield bro Non provare qua Puoi darlo forse sai? No non voglio Non voglio Ma non regalo Direi collate Non vuole più dare draghi Vuole più dare Andiamo? Andiamo noi? Sì sì È mia red È mia red Sta facendo il red Cazzo ha poco Poco mano Vai check check Eccola Sì sì È là Alla air Non fai darla Fai darlo tu È chiudata qua Subito eh Non posso fare Per sicurezza Sì sì Magari Drago in dieci Vogliamo lasciare Susciate magari i bot Sì Ma non sto venendo S'asservo Puoi iniziarla eh Tanto io Finisco il red Arrivo Qui siamo questa Arriviamo a drago Sì 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 È che rimane Sì 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 È che rimane Guardate il bot Sarate i bot Sarvano è botta ancora Tu non è che rimane Circe non è che rimane Tu finisci Sarvano arriva Botta dalla linea Sì 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 Ok ok basta Si chiabra home e basta, qua ci andiamo Nice B e B Guarda, ora R Io voglio bait il cara, 3k Lo baito, lo baito, lo baito Ok no E' morto, è morto, è morto, è morto Nice Io ho Zonia Vuoi devare con Zonia? Anche tu vai Eh, non ho nulla Vabbè, vinciamo, vinciamo Ok, guarda Twitch Oh, che buono Attenzione, potrebbe tippare Gwenna Vabbè, ma Gwenna è patetica, cioè Z Non dobbiamo mai più perché ho cambiato il target champion solid e sotto torre non riesco ad attaccare Pollici Infatti lo rimetto come prima, questa cosa è una clinciata Quando hai R mid ti ganco, faccio R Ok Questo prende la top No, no, ulti, no Ulti, ulti, ulti Basta Non potrei schiarare niente Harvan dovrebbe essere i campi topside Io dovrei piazzare l'era, l'altro lo metto mid Prendi Vabbè, puoi metterlo No, no, dallo a Jinx Dallo a Jinx Ah, vabbè, lo devo piazzare, non ho scelto No Pusciare la top lo dobbiamo Anzi, guarda Jarvan Passata qua C'è anche Brom, it's fine C'è anche Twitch C'è anche Twitch Anche 3, 2 secondi 2 secondi No, ho cheso Vengo anch'io Sei ok per me puoi Pisa la top Piano, piano, piano Piano, no già Io ho R Nooo No, no, no Arriva Twitch da mid Arriva qua Vabbè, free push a bot Ho fatto free dive se vuoi Va bene Io non ho R Vabbè, non importa, ce l'ho io Ma resta, secondo te? Sì, sì Forse riesco a prendere il bot turret Dove è Twitch? Era mid e ora sta scendendo Tipo qua Ok Ma non Vai Ok I'm not just Start Zerba è qui Poverina Disferirò Ok Zerba Potremmo prendere la torre? Io faccio jungle topside, guys Cioè Anche solo l'hunter Anche solo l'hunter Io le callo Ok Ok Ok, guardate Eh, cammino mid Ti ulto io Cassio Pai è ignorante Ok, allora facciamo next Facciamo next Poi andiamo a mid C'era di in venti eh Ok Qui c'è questa becca Allora io vado top B in mid La monera a Cassio Aspetta che ti sto venendo a ultarla Non c'è bisogno Vado a prendere il red Vai vai Vengo anch'io Aspetta, vabbè Niente Ammazziamo Wendel Il red Credo c'è anche Jarvan là Vabbè Vimegast Potrebbe venire anche Cassio Eh, ho guardato C'è Broma anche Vuoi dire Back Il punto di capo Vado io un bot Voi poter fare l'air Ok Ho guardato Scusa T'ho stato il top Ah sì, va bene, va bene Dammi la lanterna Pris, Bob Ok Vado a elevare con la ward Qui c'è AD Sì Vado a fare l'air dal volo Brago in 1 Arrivo all'air Lasciamo i Dario Vai vai Jarvan lo vediamo Oh, R up Sì Un posto main Non contesto neanche Beh, dopo questo è una wave mid, Drago L'ora in teoria agro smappano top Però... Cioè non so se tu vuoi scendere o se... Io ho scendere Scendo, scendo, scendo E' un Drago Posso una wave mid Sì Va bene Quello avrà un item per Drago Dai Sono andati eh Tipo? Tipo No, non tipo Mi so che sia... No, non tipo ar Non tipo ar, non tipo ar Posso, posso Arrivo top Odalante Oh, hai fatto gale force Divertente, ci sto Odalante, guarda Posso rendere anche Twitch Va bene, va bene C'è un Drago C'è un Drago, c'è un Drago Io la voglio Vai, 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 prendi Vipria se vuoi Possiamo fare bot Possiamo fare Flash arma, no, flash, caz Forse puoi dare l'hunter Arrivo a breve Però in tre top Ah, vuoi lasciare a me? Se vuoi andare mid, vai, tram Dai, prendo la passiva, faccio prima Ah, ok, ci sto Miss a Gwen Vai a voltare Gwen, vieni Volta Gwen Fuori Ma se mi faccio tipo un Leech Bane Ma... Eh, troppo tardi per... Io ho item in base Vuoi venire via su mid, facciamo una R e vinciamo Hunter? No, ci diamo Prendiamo... Dicam per bar Ok, io prendo sa go C'è un bot Guarda, facciatevi vedere la bot In caso Ok, ok Inserbo il base eh Devo beccare se non ho perduto il tempo qua Va bene Ok, becco anche io E' guardato qua Comunque il baron forza un fight Vinci Vi sto un po' trollando io Io... C'ho nuovo regalo e c'ho some fight Guardami top Guardami top Sto guardando Guarda, vai Sai, puoi ultare le buste Nice Da un po' overkill il flash Ah, per me l'ulti fa guanissimiun, capito? Da lontano Cioè, Americano sta dormendo No, ti metto... Ti metto le herald se vuoi Corro mid Guarda Ora OTP E la ulti se vi ingaggia Non basta che mi lasciate una ward Qui c'è là Un HP Arrivo, arrivo, aspettatemi Se possiamo finire game top Se finiamo game top Arrivo, arrivo, arrivo Routiamo top Prima andando mid, eh Prendo pressure qua Dovrebbero ingaggiare, in teoria, gli avversari Arrivo verso... No, vabbè, non finiamo la field Mid, 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 mid Adesso, Mike Può sultare, può sultare molti gruppati Nah, ci diamo, ci diamo Se si rigruppano, io mi lancio Tu stai pronto Io non ho cooldown, eh Io non ho cooldown, eh Io non ho cooldown, eh Abbiamo preso i nivel diciottesimo Un po' cringe, però, vabbè Beh, se il bar in un minuto Resettate, se dovete Ma ora vengono Possiamo anche affidare Sì, volendo... Vabbè, ci hanno spuntato Io non ci sono, non ci sono Ult, 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 ult Posso back e poi i bar Sì, è veramente figo Vabbè, andiamo al Nashor Tipica C'era una pink? No C'era il support, ce l'ha Oh, c'è il suo red Eh, puoi lanternarmi nel caso Vado a prendere il suo red Vado a prendere il mio red Bull Oh Non ho la ulti Beh, baron, quass Facciamoci baron, I guess Vado a prendere il mio red Più scudo, sì Vabbè, io me ne vado a ultare Twitch Vabbè, che sostiene la passiva Ma aiutaci a fare il Sì Vabbè, lui vorrei stare Sì, sì, scudo, scudo Fare quanto danno posso fare, che ho il baro, no? Non ti mi dici Andiamo a ulti No, facciamo array mid, dai, prego Facciamo array mid Anche solo for fan, un array, prego Esatto, esatto, esatto Stavolta lo perdona, stavolta lo perdoniamo tutti Tutti su Twitch Tutti su Twitch Hai guardato? Sì, prendiamo Cassi Perché lui ha... Punta bassi Guarda 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 Lo prendetelo, prendetelo, prendetelo Go, go, go! Ah, Flash Chef Oh, sono vivo Io che sto pensando Sì, è una macro, stai Dovevi giocare di macro DG Non scrivo neanche DG Troppo disraspetto Come no? No, no! DG Pazzo Dei tossici È cattivissimo, Kazuga Mamma mia È cattivissimo Beh, solo perché ho questa skin di malfighter Ho venuto a giocare la spam Bene, son contento Abbiamo trovato il sistema La dovresti in solo Q, eh Prielo Malfizio Devo provarlo È che blind non mi piace È che banno Sempre broken Ragazzi, mi sa che il prossimo game sarà tra tipo 15-20 minuti Ah, bene, abbiamo iniziato un po' tardi Abbiamo iniziato, quindi sennò a me Non è detto, dai Riprendo il link, aspetta Qua